Ciao amici di Associazione Culturale Maggiolina, torniamo a lavorare con Google Fogli e sul nostro foglio spese di casa. È arrivata l'ora di un altro mese, è passata la mensilità di interesse per me, quindi devo attivare un nuovo foglio spese per un altro mese. Faremo anche un riepilogo di tutto quanto, nel senso che in settembre ho speso dei soldi, ottobre ho speso dei soldi, novembre ho speso dei soldi, dicembre ho speso dei soldi. Ok, vediamo tutti insieme questi dati in modo da fare dei grafici, in modo da fare delle valutazioni. Certo, adesso è ancora presto, abbiamo fatto un primo mese, stiamo facendo il secondo mese, lo facciamo oggi per necessità, perché il mese per me è iniziato, devo annotare le spese del mese nuovo, ma non abbiamo ancora finito. Nel mese vecchio io ho speso dei soldi e voglio analizzare queste spese. prima di racchiudere tutto in un unico foglio di riepilogo, dove allora avrò tutta la situazione annuale, o di volta in volta, con i mesi che passano, sott'occhio. Quindi, operazione di oggi, avere un nuovo foglio spese per il mese, che per me sarà ottobre. Quindi, vado in Google, nuova scheda del mio browser, sono loggato, come sempre, con l'account che ha la gestione di questo foglio, vado in Google Drive, perché questa volta il grosso del lavoro si fa lì, sono in Google Drive, vado a cercare le spese di casa, eccole qua, queste sono le nostre spese per video, quelle che stiamo utilizzando in questo corso, queste, ottobre 2023 e settembre 2023, sono le mie spese reali. E come vedi, io ho già il foglio di ottobre, perché è iniziato, mi serviva. Adesso lo facciamo anche noi. Quindi, spese per video, lo rinomino, cambio nome, lo rinomino, e lo chiamo SV, spese per video, settembre. Settembre 2023. Così so che questo foglio è quello da esperimento, quello che usiamo noi. Benissimo. Questo foglio va bene, va quasi bene, nel senso che non ho ancora finito, facendo le varie cose, mi sono accorto che ci sono ancora cose che vorrei fare. Però è il punto più avanzato che ho, quindi questo lo faccio diventare quello di ottobre. Però lo duplico, perché le spese di settembre mi serve tenerle, mi serve salvarle, e sono già salvate. Adesso mi serve lo spazio per le spese di ottobre. Poi faremo le modifiche, eccetera, eccetera, e quando avremo il foglio spese, quindi quello generale, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, il foglio spese mensile, perfetto, faremo in modo di dover lavorare meno per avere un nuovo mese tutte le volte. Ma adesso, siccome i lavori sono ancora in corso, siccome devo ancora capire bene cosa mi serve al 100%, partiamo dal punto di arrivo di settembre e andiamo avanti con ottobre. Però settembre lo teniamo archiviato, perché contiene i dati, e ottobre lo mettiamo in funzione adesso. Quindi duplico questo foglio, tasto destro del mouse, crea una copia, e adesso verrà creata una copia di questo foglio identica, vediamo se arriva, eccola qua, copia di settembre 2023, tasto destro, rinomina, dove è rinomina, eccolo qua, perché lo chiamiamo svottobre 23, ottobre 23, ho sbagliato, va bene, sistemiamo così, ottobre 23, ok, così adesso ho il foglio nuovo per le spese di ottobre, che non sarà vuoto, perché ci sono dentro quelle di settembre, quindi apro quello di ottobre e vado a vuotarlo. Questo lavoro, devo per forza farlo, perché non mi sono organizzato, non ho un foglio base, da cui duplicare tutti i vari mesi, un foglio base vuoto, da cui duplicare tutti i vari mesi, lo farò quando sarò pronto, in sostanza. Quindi, questo è il nostro bilancio, il nostro riepilogo, e non lo tocco, va già bene così. Vado nei supermercati e cancello tutti quanti i dati, quindi questi dati qui, seleziono, ok, non ne ho altri, potrei andare più giù, ma non ne ho altri, premo canc e se ne vanno, spese di supermercato, zero, cibi vari, seleziono tutti i dati presenti, cancello, spese cibi vari, zero, spostamenti, seleziono tutti i dati presenti, cancello, spostamenti zero, utenze, non c'era niente, tia, non c'era niente, dan, c'è il mio taglio capelli, a zero, salute, non c'è niente, mezzi, c'è qualcosa per l'auto, cancello, andiamo avanti, spese fisse, qui non c'è niente, in quello vero, purtroppo sì, e parecchie anche, e impostazioni invece rimane così, perché va bene. Quindi adesso, se io torno in bilancio, eccomi qua, vedo che ci sono solo le entrate, le entrate anche in questo caso, le vado a cancellare, perché questo mese, vedremo cosa sarà, ma ovviamente, se si tratta di uno stipendio fisso, saranno sempre quelle, e quindi non sarò obbligato, a cancellare questo foglio, però adesso, il foglio, spese per video, ottobre 2023, è vuoto, e io sono pronto, ad andare, ad annotare, le nuove spese, quindi, siamo pronti, per il mese nuovo, quello che dovevamo fare, lo abbiamo fatto, se io chiudo, le spese per video, qui ho, settembre, e qui ho, ottobre 2023, quindi, se apro settembre, e vedo che ho avuto delle spese, se apro ottobre, vedrò che ancora è vuoto, quindi, questo è il bilancio di settembre, e sarebbe andata troppo bene, se fosse così, con 1200 euro di avanzo, e quindi, adesso, dobbiamo fare ulteriori cose, quindi, i prossimi passi, cosa saranno? Saranno, quelli di mettersi lì, e dirsi, ma di supermercato, quanto abbiamo speso? 616 euro, benissimo, ma in quali supermercati sono stato? Dove ho speso più soldi? Dove ho speso meno soldi? Così posso anche farmi un ragionamento, e dirmi, vabbè, che sia più economico questo, che sia più economico l'altro, vabbè, dipenderà dalle cose che ho preso di volta in volta, però, potrei dirmi, caspita, ma Eurospin è molto più economico di un altro, per esempio, proviamo a spostare i nostri acquisti, su quel supermercato, piuttosto che su un altro, questa cosa la posso fare quando ho un'analisi di questi 616 euro per capire dove sono andati spesi, e quindi potrei fare un ragionamento. Allo stesso modo, cibi vari, ok, adesso qui c'è poco, ma poi lo rimpingueremo con delle spese reali, qui c'è poco, ma tra tutte le varie cose, cibi vari, che vuol dire anche quando mangio fuori, eccetera, ma quanto abbiamo speso per mangiare fuori, quanto abbiamo speso di supermercato, c'è un rapporto, vale la pena fare una cosa, vale la pena fare un'altra, e quindi vogliamo un'analisi più completa delle nostre spese. Adesso ho le spese di un mese, benissimo, mentre annoto le spese del mese in corso, mi guardo indietro per capire se c'è qualcosa che si può fare per migliorare la situazione agendo sulle nostre abitudini di spesa. Certo, un mese solo è poco, quindi avremo bisogno di più dati per capire meglio la situazione, però intanto posso cominciare a lavorare su quello. In un secondo momento, quando avrò sistemato tutto il mio foglio, allora predisporrò un foglio di riepilogo annuale, su base annuale, dove mi metto lì e vedo come siamo andati. Caspita, questo mese abbiamo speso di più di alimentari rispetto al mese passato, caspita, d'inverno ovviamente ci sono le utenze, eccetera, e poi potremo passare anche ad anni successivi. Ah, quest'inverno stiamo spendendo di più di riscaldamento, stiamo spendendo meno di riscaldamento, difficile, eccetera, eccetera. Quindi per grade stiamo costruendo questo foglio. Non possiamo avere già tutto fatto perché non sappiamo quelle che sono le nostre esigenze e cosa ci verrà in mente di monitorare di volta in volta. Questo è il vantaggio di farsi le cose da soli. Sono qui, guardo le mie cose, mi viene un'idea e mi dico, sai che, se guardo quello potrei fare un discorso, se guardo l'altro potrei farne un altro. Bene, mi auguro che questo video ti sia piaciuto. Qui sotto c'è il pollice in su per dire che ti è piaciuto, c'è il pulsante iscriviti per iscriverti al canale e seguire passo a passo tutti i futuri fogli che verranno e c'è il pulsante abbonati se ti va di vedere anche i video della serie speciale riservata agli abbonati dove ci sono approfondimenti vari. Due nuovi video ogni settimana ma sul canale ce ne sono già tantissimi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!